Mi sono subito innamorato di questa città perché ho capito bene che era una città da un punto di vista accademico, aveva molti studenti e penso che era il posto giusto per i paesi dell'est. Dopodiché abbiamo deciso, dopo il campus che ho costruito a Singapore, di creare definitivamente un campus in questa area. Ho conosciuto Lublin circa dieci anni fa con il professor Reidak e mi sono subito innamorato di questa città perché ho capito bene che era una città da un punto di vista accademico, aveva molti studenti, nella città di Parma in Italia ma semplicemente per il glaucoma e SASO la più grande scuola del mondo in oftalmologia. Abbiamo effettivamente questa ambizione. dell'est. Od 10 lat prowadzimy bardzo intensa współpracę z Europejską Szkołą Zaawansowanych Studiów w dziedzinie okulistyki. Między Lublinem i Lugano, bo tam jest właśnie siedziba w Lugano, wytworzyła się już taka oś współpracy, bardzo bliskiej. SASO to przede wszystkim innowacja w okulistyce, to przede wszystkim najnowsze technologie, kontakt ze światową elitą okulistów, wykładowców, ale przede wszystkim lekarzy praktyków i chirurgów. My wiemy również, że SASO działa nie tylko w okulistyce, ale również rozwija szkolenia w ortopedii, w okuloplastyce i prawdopodobnie tu w Lublinie również te dziedziny niebawem będą realizowane. Także jest to kontakt z wielkim światem dla okulistyki. SASO to przede wszystkim rozwój nowych technologii, nowych idei, a również szerokiej międzynarodowej współpracy. Znaczyłem już od znać na ten lat w Lublinie, gdzie zaczęłam dotarme, jak się na ten temat, które rozwijać myślące, jak na rozwijać małego z trzema, w szczególności, ale nie znałem mój interes na 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 in cui ho lavorato tutti i giorni e sono molto interessato per la ricerca di nuovi biomarkers come strumenti di diagnosi per diverse retinali e oculari. Il insegnamento è la parte più interessante del mio lavoro. Questo è il punto importante per essere un'internazionale internazionale ophthalmologia. Il mio lavoro è benvenuto per il suo standard in eye care e uno dei centri europei di referenza per la trattazione e l'annunzione di oculari oculari. Qui in Lublin abbiamo una lunga tradizione riguarda l'istitore dell'ophthalmologia. La storia è iniziata con il prof. Pavic, il pioneo e la creazione di cataracts. La storia è un'internazionale.